Siamo con Massimo Bonetti, direttore artistico della seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema del Cilendo, per la terza tappa a Santa Maria di Castellabari. Ecco, quindi terza tappa raggiunta con grande soddisfazione, supportata dalle prime due tappe, e corriamo verso venerdì, verso sabato, dove ci sarà poi l'Apoteosi, il clou del festival. Questa sera qua si premierà il miglior cortometraggio, il miglior documentario e il miglior videoclip. Quindi sarà una bella lotta perché io ho visto le opere e sono tutte molto interessanti, però ne abbiamo dovuto scegliere tre. Vedremo chi sarà il vincitore, dai!